Il vince il settantesimo Premio Strega Edoardo Albinati, scuola per l'esercizio, 146 giorni. E' Edoardo Albinati il vincitore della settantesima edizione del Premio Strega. Lo scrittore romano ha conquistato la palma di miglior libro del prestigioso Premio Letterario con il suo La Scuola Cattolica, edito da Rizzoli. La serata finale di quest'anno si è svolta non più al Ninfeo di Villa Giulia, ma nel grande auditorium Parco della Musica di Roma, con un numeroso pubblico composto da votanti e protagonisti della cultura e dell'editoria italiana. Sul parco sono state mandate in onda immagini di repertorio della storia dello strega, con una carrellata dei tanti scrittori protagonisti del Premio che hanno fatto grande la letteratura italiana. Momenti di pura commozione per il ricordo di Umberto Eco e del poeta Zaiken. Il vincitore del Premio ha preceduto Eraldo Affinati, Vittorio Sermonti, Giordano Meacci ed Elena Stancanelli. Vittorio Sermonti, Giordano, 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 Giordano,